Buongiorno, allora ci sono un po' di novità che arrivano dall'Inps, ma prima di tutto pollicione, iscrizione e campanella che è sempre utile per mandare giù i cazzari. Allora, l'Inps sta bombardando di circolari in questi giorni, chi ha l'applicazione della rassegna stampa Inps le può vedere direttamente, vi ho detto, è utile, ha un peso assolutamente irrisoio sul telefono e comunque vi consente di verificare le informazioni che vi diamo direttamente. L'Inps ha confermato che sono in corso i pagamenti, in questi giorni, dei bonus automatici, quelli da 1600 euro, per chi aveva già percepito il bonus 2400 euro, quindi rientrava già nella casistica dell'erogazione automatica e che entro pochi giorni uscirà, questo è importante, la procedura con cui fare domanda adesso per questo bonus. Quindi se rientrate nelle categorie di questo bonus, e mi raccomando, prima di fare, comunque controllate se rientrate nelle categorie, lo potete fare tranquillamente anche senza il PIN perché si tratta di accedere a un documento non privato ma pubblico e quindi leggibile, controllate se rientrate. Se rientrate andate a un CAF, andate a un CAF, non fate da soli. Inoltre è uscita la procedura per la domanda per l'assegno familiare, quello per i figli, non l'assegno unico, non fate confusione, l'assegno per i figli. Chi non rientra, sottolineo, non rientra nelle categorie che accedono all'assegno unico, ma riceveva l'assegno familiare e comparsa la procedura per fare la richiesta da qua fino a dicembre, quando poi l'assegno unico vero compatterà tutto. Quindi andate a controllarla, se avete figli, rientrate anche qui nelle caratteristiche, nei parametri, fate la domanda, ok? Mentre invece per la domanda dell'assegno unico ponte, quindi quelli che non possono accedere all'assegno familiare, ma possono accedere all'assegno unico, bisognerà aspettare il primo luglio, salvo, per ora date quella e a quella ci atteniamo. Poi viene confermato il blocco delle decurtazioni sulle naspi, il famoso 3% a scalare, superato un certo numero di mesi. Però occhio, viene confermato in questo periodo, dall'anno prossimo se ne riprendono questi soldi, perché guai a dare qualcosa di più ai poveri, guai a dare qualcosa di più a che bisogno, ve li diamo adesso e ce li riprendiamo dopo. Però sappiate che c'è questa variazione e che è comunque utile adesso, poi i vampire arrivano dopo. Infine, per quello che riguarda l'RDC, al 90% la ricarica partirà dal 25, il giorno per cui controllare, poi ve lo ripeterò anche la prossima settimana, ve lo ripeterà anche Elena e tutto, sarà la notte fra il 23 al 24, fino a che non avremo una conferma ufficiale dell'Inps, ribadisco, è solo un'ipotesi fondata, ma è un'ipotesi. Non dite, eh, ce l'hanno detto che è così, no. Quando avremo la conferma vi diremo, è così. Fino allora è un'ipotesi di lavoro, con una solida base, ma è comunque un'ipotesi. Detto questo, andatevi a leggere questi circolari perché sono utili. Soprattutto andate a leggere per verificare se potete accedere a questi bonus, a questi servizi. Però qui bisogna anche chiarire una cosa. Ah, un'ultima cosa. Se qualcuno ha ricevuto il bonus a fondo perduto dall'agenzia delle entrate, ce lo faccio sapere che io fino ad ora non ho ancora sentito nessuno che mi ha detto sono arrivati e dovevano arrivare due giorni fa. Non vorrei che la stessa malattia che all'Inps l'avesse presa anche l'agenzia delle entrate, la bradipite, quella malattia per cui diventi veloce come un bradipo e per spostare una cosa ci metti un anno. Qui però bisogna anche chiarire una cosa. Una cosa che, visto stamattina da Mr. Rule, ma comunque è un discorso che va chiarito. Noi non lo facciamo, dico noi, quelli seri. Scusate, io il cazzaro non ce lo metto proprio nel discorso. Noi, quelli seri, ci facciamo anche un certo mazzo a controllare le informazioni. Andiamo a controllare la documentazione ufficiale, perché questo che vi ho detto sono tutte cose che potete verificare voi. Andate e leggetevi queste circolari. Non sono illegibili o inarrivabili, non sono documenti secretati, sono documenti pubblici che l'Inps stessa manda fuori. E questi documenti arrivano dalla sede centrale dell'Inps. Quindi hanno un marchio di attendibilità un po' superiore a quello dei call center. Perché se la stessa Inps li vuole chiudere, cioè vuole staccare i contratti a questi call center per crearne uno interno, ci sarà un motivo. Perché di fatto il call center che chiamate non è l'Inps, sono degli appaltati. Degli appaltati che spesso gestiscono non solo l'Inps, ma anche i gestori telefonici, gestori di rete, di servizi, di tutto. Immaginatevi come possono essere preparati. Però vedo che qualcuno telefona questi qui, questi sparano una cazzata, e questo, ah sì, me l'ha detto il consente. Ragazzi, io ho chiamato un consente, di questo consente, mi ha detto che, eh ma la domanda per i RAI non si può più fare, perché non è compatibile con l'RDC. Sì, la telefonata non gliel'ho fatta due anni fa, io gli avevo chiesto della possibilità di fare la domanda del REM nel mese di sospensione dell'RDC, questa mi ha risposto del REI, che non c'è più. Questo è il livello di preparazione. O sono tutte fake news. Signora, puttana la miseria, scusate la volgarità, ma io ho la circolare Inps davanti e mi sento dire, da questa gente qua, sono tutte fake news. Ti viene voglia di girargli la testa, stile, non lo so, stile Linda Blair nell'esorcista, perché, veramente, però alcuni di voi sentono questi, che più di una volta si sono dimostrati inaffidabili e li prendono per orcolato. Noi che vi diciamo, la circolare questa l'ha pubblicata l'Inps, eh no, sono fake news. Capite che poi un po' girano le balle? Perché io ho il badisco, un concetto molto semplice. Chi dice che noi mettiamo in giro fake news, mi porta la prova, perché se la prova è la parola del call center, e beh ragazzi, non è proprio la parola più attendibile del mondo, è come credere alle promesse di Renzi, quindi evitiamo, perché noi non lo facciamo per la gloria, perché se no faremo canali di altro tipo, tutti penso, tutti noi, non lo facciamo per i soldi, per amore del cielo parlare di soldi con YouTube, è una barzelletta già di per sé, lo facciamo perché lo riteniamo un dovere civico, e perché ci piace aiutare, questo è il fondamento, quindi a noi che ci frega di raccontarvi favole, non è che poi dobbiamo mettere la foto in copertina, in tutone, col dito che punta, come fanno altri, quindi un filino di rispetto per l'impegno che ci mettiamo, perché poi quando noi sbagliamo ci correggiamo, posso dirlo per tutti i canali che cito sempre, quando mi hanno dato una cavolata, ci siamo corretti sempre, dateci un filo di attendibilità, in questo senso. Poi se volete continuare a credere con il center, ragazzi mia, io non mi impedisco di credere a chissà chi, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, però un conto è un con center di una società, cioè che lavora solo per quella società, un conto sono quello che ha fatto l'Ips, a dare un appalto a con center esterni che lavorano anche per altre società, e quindi la preparazione è quella che è. Detto questo, ragazzi, due parole su sentito volare le fregnacce di Orlando, ragazzi, non è roba nuova, non si è parlato assolutamente di eliminazione del reddito, quindi per piacere togliamo anche questa fregnaccia. Il reddito va riformato, è arrivato Orlando, aspettavamo lui che ce lo dicesse, sai, eravamo tutti in pensiero. Le idee, bravo Fabrizio ha centrato perfettamente la soluzione che attireranno fuori quelli, cioè diamo un po' di soldi al centro per l'impiego e vediamo di sistemare questi navigator, quando il problema di fatto è e se tu non incentivi ad esempio i comuni ad assorbire i dipendenti RDC e continua a tirare fuori la storia dei lavori socialmente utili in cui nelle sostanze i comuni ci vanno coi piedi di piombo anche perché la copertura legale dal punto di vista dell'infortunistica non è ancora chiarita adesso, tanto per citare un problema, è un po' dura. Comincia a dire ai comuni assumi i percettori RDC e io ti faccio avere più contributi. Vedi come si svegliano i comuni perché se ti entrano più soldi in cassa hai più soldi per fare cose e allora sì sì me li prendo. Se di fatto gli dici ti prendi il rischio e non ti do una fava è perché è quello che è. Sono un po' più resti, no? Poi sui centri per l'impiego veramente Fabrizio ha centrato proprio la cosa. Un po' di soldi arrangiatevi è come la fala del Titanic la giustiamo col binaviglio. La stessa procedura. Cioè, li avete devastati per 30 anni. Già funzionavano male prima. Li avete devastati per 30 anni, Renzi li ha praticamente asfaltati e adesso pensate di rimettere in piedi tutto con, non so, un secchiello per la sabbia e un po' di sabbia bagnata. Cioè, quello è che volete fare. I Navigheto sono una perdita economica. La soluzione giusta è per due anni vi abbiamo mantenuto fuori dai coglioni ma vedrete che per tenere buono qualcuno cercheranno di incastrarli in qualche angolino. Però, io ho una cosa da fare. Fategli dare lo stesso stipendio, lo stesso contratto dei dipendenti nei centri per l'impiego che per la maggior parte hanno contratti a termine e prendono un cazzo sui 1100 al mese. Non quello che prendono adesso a 1700 e passa per grattarsi. Poi vediamo, poi ci ragioniamo su a che velocità questi si danno. Quindi, per piacere, Orlando, cose concrete. E anche qui, capisco che la Bradipite sia una malattia contagiosa. Se l'è presa anche la Saraceni, evidentemente, perché dov'è? La Saraceni è brava. Dico io che è brava. Però, evidentemente, è entrata anche lei in quel meccanismo oppure, non lo so, mentre noi discutiamo, in realtà è sulla prima astronave che sta andando verso Marte per cui un po' di mesi ci mette. Però, dammose una mossa, eh? Perché il problema non è differibile e non è un problema secondario. È un problema urgente e non differibile. Dateve una mossa. Perché a stare lì a guardarsi uno con l'altro e a fare grandi ragionamenti di... Cioè, se volevo un tizio che aveva la velocità di una mumia appena uscita dal sarcofago chiamavo Zagrebeschi. Cioè, la velocità... Non so se qualcuno ha sentito parlare di Zagrebeschi. Ragazzi, ci metti davanti una batteria di babbuini in calore e cinque minuti di Zagrebeschi dormono tutti. Anche se gli inietti direttamente i ferormoni, eh? Dormono tutti comunque. Ecco, diamoci una mossa. Perché la gente ha bisogno di risposte concrete adesso, non quando ci avete i comodacci vostri. Io vi saluto, ci vediamo magari domani con un video ovviamente sabato e domenica se faccio video sono su altri domenici. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.